Il quinto giorno di sciopero della fame perché Marino ritiri le dimissioni e porti la crisi in aula. Con me ci sono altri nove compagni che scioperano e che stanno tentando di fermare il golpe dei nominati e degli innominabili contro gli eletti ed elettori. La crisi non deve passare attraverso la presa in ostaggio delle istituzioni come è avvenuto finora e attraverso trattative oscure che vengono condotte nei corridoi ma attraverso le aule consigliari. In particolare il sindaco deve chiedere conto al partito che fino all'altro giorno ha votato tutti i provvedimenti di questa giunta. Anche quelli che a noi radicali lasciavano molte perplessità deve chiedere perché da un giorno all'altro questo sindaco eletto debba cadere e debba essere sostituito da un commissario non eletto. Quali poteri chiedono questo e quando in quel caso si andrà al voto perché il tentativo è anche quello di andare al voto due anni dopo.